buonasera confermate le previsioni per il ponte dell'immacolata secondo gli ultimi aggiornamenti del modello europeo e cmvf avremo fino a giovedì 7 dicembre condizioni meteo stabili su buona parte dell'italia grazie all'espansione dell'anticiclone da venerdì 8 dicembre una nuova discesa di una saccatura subpolare raggiungerà l'europa e l'italia sempre venerdì 8 dicembre una perturbazione atlantica investirà il nord e le regioni tirreniche con pioggia e neve sulle alpi sopra i 700 900 metri sugli appennini sopra i 1200 1400 metri sabato 9 il maltempo si porterà verso il centro sud con neve in appennino mentre il clima inizierà gradualmente a raffreddarsi su tutte le regioni domenica 10 dicembre il maltempo si sposterà principalmente sulle isole da lunedì 11 una nuova perturbazione potrebbe portare la neve fino a bassa quota al nord e con questo è tutto per il momento vi lasciamo alla visione di altri video divertenti sempre su tele rompo gossip tv ciao 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 ciao